Prenderanno ufficialmente il via i lavori di restyling per via Nobel ad Aversa la prossima settimana. Il progetto, finanziato con oltre 2 milioni di euro già stanziati da tempo, vedrà un importante intervento di riqualificazione della strada, nonché una delle principali via di accesso alla città Norman, arteria fondamentale che conduce all'ospedale Giuseppe Moscati. L'inizio effettivo dei lavori è fissato per i primi giorni di ottobre, come concordato tra l'assessore lavori pubblici Francesco Saiocco e la ditta incaricata dopo un incontro decisivo tenutosi lo scorso venerdì per fare il punto della situazione. Per quanto riguarda invece la variante che è versa in condizioni precarie in fase di sviluppo un progetto che prevede l'allargamento dei marciapiedi, l'inserimento di alberi, una pista ciclabile, la rimozione dello spartitraffico e la creazione di dossi per la sicurezza. Una rotonda verrà inoltre aggiunta per migliorare la circolazione. Venerdì si terrà un incontro finale tra l'assessore Saiocco, i consiglieri e il presidente della commissione lavori pubblici Pietro Giglio, prima che il piano venga sottoposto alla giunta comunale per l'approvazione.